eccoci qua allora buonasera e benvenuti come sempre virtualmente alla biblioteca delle oblate di firenze e siamo oggi al secondo incontro del ciclo intitolato la scienza i filosofi ricordo della professoressa elena pulcini e ringrazio e do il benvenuto ai miei ospiti che stasera sono maurizio balistreri giovanni capranico matteo galletti silvia zullo e parliamo stasera di biotecnologie modificazioni genetiche scienza etica e diritto con gli autori elisabetta la lumera e pierpaolo marrone io chiedo a tutti gli ospiti quando non parlano di tenere ovviamente il microfono spento lo schermo invece anzi volutamente acceso in modo tale da sentirci un attimino più partecipi all'evento e ringrazio tutti mi oscuro e lascio la parola penso a maurizio a emilio corriero grazie emilio corrieri scusa ma non era corriero corriero grazie per questa grazie mille ne dicevo presentiamo il volume di maurizio balistreri giovanni capranico matteo galletti e silvia zullo biotecnologie e modificazioni genetiche scienza etica e diritto pubblicato dal mulino nella collana itinerari ne parliamo insieme a elisabetta la lumera e insieme a pierpaolo marrone che cominceranno a introdurre i temi generali di questo volume che poi discuteremo insieme ovviamente anche agli autori si tratta di un importante strumento di analisi di riflessione puntuale aggiornato sulla complessità delle innovazioni scientifiche e biotecnologiche sulla loro rilevanza che viene indagata sul piano etico giuridico e sociale dopo un primo capitolo a cura di giovanni capranico sugli aspetti scientifici che costituiscono la base per le attuali innovazioni biotecnologiche il volume poi si articola in quattro parti la prima dedicata ai fondamenti di bioetica e biodiritto la seconda bioetica e biomedicina la terza al rapporto la bioetica con gli animali e infine la quinta alla questione dell'ambiente attraversata attraverso appunto letta attraverso gli occhi della bioetica come potete comprendere già da queste prime pochissime parole sono molti temi che vengono affrontati e sviluppati nel volume che cominciamo a ripercorrere a discutere assieme dicevo a Pierpaolo Marrone e in prima battuta Elisabetta Lallumera Elisabetta Lallumera insegna presso l'università di Bologna fondamenti del metodo scientifico e philosophy of wellness ha recentemente pubblicato il volume medicina e metodo sperimentale un'introduzione filosofica prego sì grazie grazie a tutti per per l'invito a questa a questa discussione e io sono sono stata molto felice di leggere questo libro perché è davvero l'ho letto proprio dopo appena dopo avere tenuto un piccolo corso di bioetica alle matricole del primo anno del del corso di laurea in medicina e è davvero se ci fosse stato con questo libro un pochino prima sarebbe stato utile e questo si tratta di uno strumento molto molto ben strutturato perché ha la necessaria cornice teorica in cui appunto la meta teoria del viene discussa in modo esaustivo e poi ci sono in modo molto chiaro le tre parti di ogni di ogni tema c'è la parte appunto più più della cornice riflessiva c'è una parte applicativa e c'è il necessario ponte fra la la filosofia morale e la filosofia del diritto ed è questo è anche un terreno che spesso viene ehm coperto eh in modo insufficiente quali sono quali sono i rapporti fra fra le la bioetica e il diritto la deontologia e tutte queste questioni insomma in realtà è impossibile non parlare di bioetica oggi oggi aprile maggio eh duemilaventuno e in tutto quest'anno tutto l'anno scorso siamo stati sostanzialmente immersi in un mondo permeato da da scelte bioetiche enormi importantissime la pandemia ha fatto venire fuori in modo a in modo veramente saliente in modo imprescindibile eh tutti i temi eh che sono ehm che sono al centro della riflessione bioetica e questo libro non parla di pandemia non parla di covid non parla di quasi nulla che ha a che fare strettamente con 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 l'immunologia l'epidemiologia o la virologia ma ehm ma ma la struttura ehm razionale dei dilemmi dei problemi che che abbiamo affrontato in questi in questi mesi eh si ritrova eh si è proprio quella della 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 riflessione bioetica ci sono due temi molto generali eh che per che permiano secondo me tutto questo volume molto generali poi passo a quelli più particolari uno il primo tema molto generale è che siamo ehm che siamo di fronte adesso in una situazione in un certo senso di problemi di bioetica diffusa di problemi bioetici diffusi perché sono i problemi delle scelte morali che eh che hanno a che fare con le scienze della vita e e della cura sono da una parte dentro la comunità degli scienziati eh quindi per tutto quello che riguarda appunto la 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 sperimentazione la ricerca e l'applicazione però sono anche nella comunicazione quindi nel lato diciamo divulgazione nel lato che ha a che fare con ehm i media i giornali i e anche tutto sommato i lettori e infine ci sono scelte bioetiche la bioetica diffusa perché diventa ehm diventa saliente per ognuno di noi mai mai come adesso noi siamo eh decisori di scelte bioetiche in modo eh molto importante a partire da che cosa? beh non solo ehm per il fatto per per grandissimi temi come ad esempio le disposizioni anticipate di trattamento che cosa volere fare della propria del proprio corpo e della propria situazione quando si è malati ma anche in temi che su temi che uno può considerare più marginali ma altrettanto importanti e personalmente soggettivamente rilevanti come ad esempio è giusto clonare il proprio cane quando lo si è amato tanto o il proprio gattino o eccetera quindi eh da da questo da questo da questo bel a questa bella panoramica che ci danno eh i nostri autori in questo libro si vede come la bioetica è una situazione di problema diffuso la bioetica non è soltanto dei decisori non è soltanto ehm degli scienziati è noi siamo in un momento bioetico sostanzialmente secondo me e e quindi è importante quello che eh dal punto di vista diciamo eh o ehm meta teorico per usare questa brutta parola però alla fine è molto pratica sorge il problema chi si deve occupare di bioetica soprattutto eh questo è un libro che ha affrontato Matteo Galletti nel nel primo capitolo ad esempio e mh in parte e anche però Silvia Zullo in molti dei suoi ehm in varie parti dei suoi contributi da un lato ehm c'è un'idea ehm secondo la quale ehm la comunità degli scienziati la comunità dei ricercatori può ehm può avere dei codici deontologici che in un certo senso eh eh poi pongono le linee generali di condotta eh però c'è anche l'idea che sia piuttosto la la coscienza di ognuno quindi sostanzialmente la quello che si può chiamare la virtù morale del ricercatore o o della della comunità di ricercatori eh che dà ehm gli indirizzi. C'è poi l'idea che sia che noi abbiamo già un governo in cui insomma un sistema di diciamo di rappresentatività per cui abbiamo dei rappresentanti che sono chiamati a dare eh le direttive eh anche in bioetica per noi e infine c'è l'idea che questa che questo che questa delega eh rappresentativa rispetto alle decisioni anche bioetiche sia magari da mettere in secondo piano e da preferire un approccio deliberativo. L'approccio deliberativo è una cosa difficile ma molto matura è l'idea che dei gruppi di cittadini possano essere interpellati su alcune questioni e eh con un appropriato apporto eh diciamo informativo siano portati a prendere decisioni. E se noi pensiamo a temi ehm importanti che potrebbero essere appunto prendiamo quel quello di uno dei temi ehm che 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 è stato che che si affronta è ehm ad esempio quello sulla maternità surrogata che è un tema che colpisce molto eh l'opinione pubblica. Eh chi deve essere sostanzialmente in questo caso a dare le linee ehm le le linee di condotta per per un tema del genere? Ehm abbiamo la deontologia, abbiamo il governo, quindi le leggi, abbiamo la legislazione, abbiamo i giudici, abbiamo i ricercatori e abbiamo infine questa idea della della deliberazione. Per questo si vede molto questa questa possibilità di scelta sul del soggetto di delibera di scelta bioetica si si è visto anche tornando alla mia mio particolarismo sulla problema del covid si è visto anche in questo periodo quindi in questo periodo in cui sono state fatte delle scelte per noi alcune scelte che hanno avuto che avevano a che fare ehm con le misure di protezione individuale con ehm beh eh con tutto quello che aveva a che fare con la la priorità nella vaccina nella vaccinazione ad esempio o eh ci siamo resi conto che è importante capire chi decide e come e chi decide e come e e questo è un meta problema bioetico eh che eh che emerge che è secondo me ehm molto forse più saliente adesso in cui da un lato ehm appunto i problemi sono più diffusi e dall'altro lato la 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 cittadinanza, la nostra consapevolezza eh sembra essere ehm un pochino più più viva. Quindi questo per questo è un per me è un primo tema eh tema generale e l'altro tema molto generale che emerge da tutti questi capitoli è che eh con l'enorme sviluppo delle della tecnologia medica della scienza medica si è è cambiato ed è diventato veramente sfidante il confine fra caso e scelta. Il caso che è quello la dotazione che ci viene data dal nostro corpo, dalla nostra situazione, dal nostro ambiente e la scelta è la possibilità di di modificarlo e con questa possibilità gli esempi della modificazione del confine fra caso e scelta sono sono tanti appunto eh l'idea di poter avere beh grazie alla genetica, alla biologia molecolare, grazie alla tecnologia dell'editing genetico ehm si aprono delle prospettive ehm per ora più soltanto di cura ma anche in teoria di modificazione della propria del patrimonio genetico e e quindi tutto sommato eh della vita sostanzialmente. Ehm ancora su caso e scelta c'è tutta questo questo il confine fra caso e scelta è evidente in tutto quello che ha a che fare con le scelte riproduttive, riproduttive. Prima non c'era molta scelta riguardo a a a siamo passati da da una situazione se voi pensate pochi anni fa ehm in cui ehm si sperava di di capire dai segni delle stelle se se un bambino se se si era eh portatori di un bambino maschio o portatrici o di una bambina femmina ehm all'idea oggi che si può scegliere con quale gamete eh con insomma sostanzialmente se eh se se partorire con ehm una donazione se partorire scusate se concepire con una donazione se concepire con ehm quindi da con senza una coppia e e anche addirittura ovviamente ehm eh tutto quello che riguarda la diagnosi eh preimpianto e ultimamente anche la questione della della maternità surrogata. Tutte queste scelte quindi passare da un da una situazione di caso a una situazione di scelta vuol dire anche passare da una situazione di non responsabilità a una situazione di responsabilità eh responsibile responsabilità eh sostanzialmente morale che eh ricade eh sul soggetto e questo è ehm appunto richiede richiederebbe da parte di tutti noi quindi della società una sorta di maturazione etica e è una domanda che a volte eh mi chiedo e che mi pongo rispetto a questo è come possiamo fare ad essere ad avere una maturazione etica migliore eh rispetto a a queste questi compiti di responsabilità a cui siamo chiamati. Una risposta che viene dal mio mestiere che mi viene spontanea e che forse bisognerebbe rendere più più capillare lo studio e la conoscenza della dell'etica della bioetica in modo che almeno in parte l'articolazione delle ragioni e il modo eh razionale di intendere questi problemi possa possa diventare eh più semplice da 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 approcciare. Questi secondo me sono sono due grandi grandi temi che sono che emergono ehm da questo da questo testo su cui magari sì vorrei ovviamente sentire che cosa cosa pensano gli autori. Ehm sì eh per il resto appunto come ha già detto eh nell'introduzione eh Emilio Corriero. Questo è un testo che ha una varietà, che copre una varietà di temi e quindi abbiamo detto c'è una cornice, ho detto c'è una cornice teorica iniziale su che cos'è la bioetica, c'è la una parte sulla responsabilità morale del ricercatore, c'è una parte bioetica e biomedicina che riguarda ad esempio gli interventi sul genoma e la clonazione e più avanti eh appunto i risvolti di diritto eh riguardo a questo e poi c'è la parte sulla etica degli animali, la bioetica in senso ampio e quindi anche eh la la bioetica che si occupa di quello che c'è oltre la specie umana e l'etica ambientale. Ehm per la la mia esperienza, per la mia competenza ehm le le domande che sono sorte sono più sulla parte che riguarda ehm la la bioetica di ambito medico sostanzialmente quindi sarà su questo che eh vorrei eh diciamo eh rivolgere un paio di domande agli autori senza ehm rivolgermi in particolare a nessuno ma per avere eh un'idea ehm così di come questa discussione eh può andare. Ecco ci sono due temi che sono molto caldi secondo me uno è quello della obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza ehm che è qualcosa che abbiamo imparato a a conoscere in in senso positivo come il il la possibilità di astenersi da scelte e da 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 compiti che sono che consideriamo eh eh non 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 consoni alla nostra identità, alla nostra eh autonomia come come si dice con questo termine. E l'obiezione di coscienza però può essere anche ehm può anche avere un dark side, un un aspetto un aspetto un aspetto cupo, un aspetto e l'aspetto in cui l'obiezione di coscienza di qualcuno eh diventa in in qualche modo in in parte l'obiezione una limitazione a quello che può essere il il diritto eh o l'autonomia in un certo senso di un altro. Penso a due esempi chiave. Uno è l'obiezione di coscienza che eh che c'è riguardo a a praticare eh l'aborto e quindi ehm l'obiezione di coscienza che ha a che fare con eh ragioni religiose e morali religiose ehm ma anche più recentemente l'obiezione quello che è stato chiamato obiezione di coscienza riguardo alla vaccinazione del personale sanitario. Cioè il fatto che una per si è discusso su in che misura sia eh sia sia opportuno sia utile eh sia opportuno ehm lasciare la possibilità di questa obiezione di coscienza eh a chi a chi lavora ad esempio chi fa l'infermiere o chi fa il medico in una struttura sanitaria. Questo è un genuino problema eh secondo me eh bioetico morale ed è un problema in cui come dice giustamente Silvia Azzullo non a questo proposito ma in altri eh in un certo senso il diritto la legislazione eh non può che arrivare in qualche misura dopo nel momento in non può sempre non può semplicemente sovrapporsi e imporsi e nella laddove non c'è eh una un sentire consolidato perché è in qualche modo ehm eh non 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 è non non è così che funziona. Quindi questa ehm questa questione ehm mi ha colpito eh sostanzialmente mi ha colpito molto è una una questione a cui anch'io faccio fatica faccio fatica io stessa a dare una risposta. Una delle idee interessanti che ci sono è potremmo decidere di valutare su base razionale le ragioni delle obiezioni e ad esempio che pensare che alcune ragioni per essere obiettore sono ragioni migliori di altre oppure discutere deliberare riguardo a questo. Ehm e questa è è una strada ma di nuovo è una strada che porta e richiede una grande maturazione eh filosofica e deliberativa. Ehm sì questo è scusate ma forse sto già parlando troppo quindi forse potrei anche dare dare un po' la parola a a il mio collega poi magari vado avanti dopo e racconto qualcos'altro che mi ha colpito. Va bene cominciamo a raccogliere questo primo intervento per poi continuare la discussione con eh gli autori. Ha già sollevato diverse questioni, ha mostrato anche la ricchezza di questo volume. Adesso darei anche la parola a Pierpaolo Marrone che è professore di filosofia morale all'Università di Trieste, codirige della rivista Etica e Politica e tra i suoi ultimi titoli Pop Sofia, dodici ingressi senza omaggio alla filosofia. Prego. Grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie agli amici e colleghi che mi hanno ritenuto degno di poter discutere questo loro importante libro che è importante non soltanto per essere uno strumento eh didattico e questa è una cosa appunto che credo debba essere valorizzata proprio anche alla luce di alcune cose che ha detto Elisabetta Lallumera sulla possibilità di una maturazione etica, di progresso morale è una cosa a cui appunto io entro a certi limiti eh anche credo eh mentre sono molto più scettico invece su uno dei concetti enfatizzati da da alcuni autori ad esempio dal mio carissimo amico Maurizio Balistreri cioè sul concetto di autonomia e uno dei pregi del libro è di presentare eh le alternative in gioco nelle varie nelle varie questioni in maniera molto molto chiara. Eh dunque il mio intervento iniziale eh generale finisce qui sostanzialmente nel senso che eh io condivido l'impianto eh se mi permettete eh ottimistico nel libro eh in questo senso nel senso che ehm ecco ad esempio io non credo tanto che noi viviamo nel momento bioetico o meglio noi siamo dentro a questo momento bioetico perché siamo da sempre come esseri umani dentro a un rapporto ineludibile imprescindibile con la tecnica. La bioetica è un capitolo di questa nostra vicenda essendo appunto esseri eh molto deboli fisicamente ma con un'enorme capacità immaginativa noi abbiamo sopperito questa è una vecchia idea di uno e di molti altri abbiamo sopperito la nostra debolezza appunto con l'immaginazione con il pensiero con l'ideazione no? Ottenendo dei successi straordinari cioè sostanzialmente il dominio sul mondo il dominio sulle altre specie animali. Ecco mi fermo qui e passo direttamente a eh alcune domande e forse alcune obiezioni nei confronti eh degli autori eh eh procedendo in ordine ehm alfabetico inverso e quindi inizierò da eh dalla collega Silvia Zullo eh che si è occupata principalmente delle implicazioni a livello giuridico di filosofia del diritto eh di questi discorsi bioetici e biotecnologici. Eh beh Silvia insiste in maniera io credo perfettamente adeguata eh su una particolare interpretazione del principio di precauzione c'è un'interpretazione che enfatizza da un lato la cautela eh nell'uso di nuove tecnologie e dall'altra appunto eh come secondo elemento costitutivo di questo principio enfatizza la dimostrazione che le nuove tecnologie non saranno pericolose per le generazioni future ma anche fatta la tara sugli presunti immediati vantaggi che sono eh in gioco. Questa interpretazione ricorda Silvia è eh oggi ritenuta molto controversa eh perché appunto potrebbe essere eh potrebbe essere integrata se non soppiantata eh da un principio di precauzione che invece considera eh come appunto si dice no anche con un mantra molto ripetuto in questi giorni che considera importante e fondamentale eh la consigliere l'analisi del bilanciamento tra rischi e benefici di una determinata tecnologia. Ci sono autori appunto che che ritengono che il modello classico eh l'auto del cosiddetto ehm autogoverno della scienza eh dell'idea che la scienza si autoregola no? sia eh divenuta insufficiente. Io penso che sia sempre stato insufficiente nel senso appunto che è una strazione una strazione forse talvolta anche pericolosa eh ritenere che la scienza sia separata da quello che possiamo considerare il modello sociale in cui eh si realizza. Eh potrebbe appunto essere interessante sapere eh per quale motivo questo principio eh di autogoverno della scienza eh sia questionato in alcune circostanze a livello dell'opinione pubblica penso non soltanto appunto ai cosiddetti no vax eh ma penso anche le obiezioni che molti appunto rivolgono agli organismi geneticamente modificati. Dunque per quanto riguarda eh invece gli interventi di Matteo Galletti no? eh soprattutto nel capitolo che cos'è la bioetica no? Dove appunto lui ricorda che esistono eh almeno eh tre eh strategie eh di argomentazione di analisi dei problemi etici e bioetici no? La cosiddetta strategia top down no? Che parte dai principi e arriva alle situazioni particolari no? Per stabilire quali sia la decisione moralmente più adeguata nei singoli nelle singole circostanze e poi c'è il modello bottom up che invece ridefinisce un percorso in qualche modo inverso nel senso che parte dalle circostanze particolari per giugere a formulare degli eventuali principi generali se non universali e poi appunto ricorda eh una strategia che è diventata molto popolare nella comunità accademica a partire almeno eh dagli anni settanta del secolo scorso che è quella eh del cosiddetto equilibrio riflessivo no? Che è stata una strategia che non si deve eh a cui appunto ideazione non si deve in realtà a chi la resa in qualche modo celebre cioè John Rawls in una teoria di giustizia ma che ha anche una sua storia su cui appunto non mi sonfermo no? Questa strategia dell'equilibrio riflessivo è la strategia di dare una coerenza all'insieme di regole, principi, giudizi morali individuali no? Che si formulano sui casi specifici e questa strategia sembra essere più adeguata alla nostra esperienza morale che affronta dei casi difficili come possono essere quelli appunto individuati eh dalla biolitica e via tecnologie. Io mi chiedo però vorrei sapere appunto qual è l'opinione di Matteo su questo su questo problema dell'equilibrio riflessivo se questa strategia dell'equilibrio riflessivo in realtà non possa giustificare qualsiasi cosa nel senso che qualsiasi principio no? Può essere messo d'accordo con un po' di fantasia eh con qualsiasi regola e forse anche con qualsiasi caso specifico no? Non è un'obiezione che io sollevo per primo naturalmente un'obiezione in cui molti di voi avranno riconosciuto il celebre paradosso scettico di Wittestand. Dunque poi sempre eh eh rivolgendomi a Matteo eh il suo eh intervento su diagnosticare, prevenire, curare, potenziare eh laddove lui parla appunto eh della necessità eh al fine di fare delle scelte autonome eh di avere tutte le informazioni disponibili no? Il che appunto farebbe concludere che sia irrazionale no? Impedirsi di sapere qual è la propria costituzione genetica perché questo impedirebbe di compiere scelte autonome ragionevoli io muoverei questa obiezione che è un'obiezione modellata in parte su quanto John Lucas obiettava alla posizione originaria di Rawls no? Non sviluppo questa 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 linea eh insomma prendetela così per quello che è come suggerimento eh di derivazione insomma eh filosofica. L'obiezione è questa vabbè ma allora tu dici che per essere autonomo devo avere tutte le informazioni disponibili no? Dovrei però anche essere in grado di graduarle no? Secondo la loro importanza è già qui sorge un problema perché non è chiaro quali siano le informazioni non sempre chiaro quali siano le informazioni importanti di cui tener conto. Ma poi non sarebbe proprio una violazione della mia autonomia ad esempio se io ritenessi che voglio condurre una vita rischiosa no? Per non so ad esempio per soddisfare qualche mio bisogno idonistico no? E per questo non voglio essere limitato nelle mie scelte da informazioni sulla mia costituzione genetica che potrebbero appunto indurmi a fare una vita più tranquilla e meno rischiosa. Questo credo sia potrebbe essere anzi potrebbe essere un'obiezione che ehm da un lato appunto getta dei dubbi su questa idea dell'informazione completa eh necessaria al soggetto e dall'altra invece rispetterebbe rispetterebbe l'autonomia del soggetto o perlomeno l'autonomia di certi soggetti che vogliono compiere queste queste scelte a rischio no? Sì anche il capitolo oltre a specie umana l'etica e gli animali non umani sempre di Matteo eh pone delle delle importanti questioni no? Eh quello che mi ha colpito è la corretta contrapposizione secondo me fra le etiche cosiddette profonde che non sono una novità nel panorama intellettuale europeo e hanno delle derivazioni che risalgono fino al romanticismo tedesco ehm fra questa contrapposizione fra le cosiddette etiche profonde invece etiche diciamo così insomma fra molte molte virgolette con molte cautele etiche più antropocentriche ecco appunto questa contrapposizione alla fine eh darebbe un valore diverso a ciò che eh la natura compie e costruisce a ciò che compiono e costruiscono gli esseri umani enfatizzando eh un valore positivo della natura di fronte all'artificio no? Però l'obiezione che si può muovere a questa contrapposizione quale sulla quale penso che forse Matteo potrebbe essere eh potrebbe essere d'accordo eh questa che noi siamo qui gli uomini sono qui e quindi sono costretti e sono chiamati anche a fare delle scelte vicarianti nei confronti o di altri esseri umani oppure degli animali no? Come appunto quando conclude l'eufemismo si dice che eh eh qualcuno di noi è stato costretto a addormentare i propri animali di affezione oppure scelte vicarianti nei confronti dell'ambiente no? Quindi appunto questa l'etiche profonde sembrano essere delle etiche o potrebbero essere delle etiche non voglio generalizzare eh profondamente anti antropocentriche eh in questo non ci sarebbe nulla di male eh però atteso che molte etiche cosiddette antropocentriche sono in un senso moderato insomma come penso di averle descritto io insomma le etiche profonde mi sembrano virare appunto verso eh derive irrazionalistiche come forse proprio della loro eh di una loro possibile ascendenza ascendenza romantica allora vengo eh ora all'intervento di Giovanni Capranico che è l'intervento introduttivo tutto il volume è un intervento importante del nome evoluzione e scienze e laddove appunto lui eh dice che esiste una forte connessione tra scienza e democrazia no? Nel senso cito che il pieno sviluppo della seconda dipende dalla prima ecco io non credo che questo sia vero nel senso che credo che l'errore di Giovanni se mi permette Giovanni eh amichevolmente sia di pensare la democrazia come un valore ma la democrazia non è un valore la democrazia è uno strumento di selezione di governanti coloro che appunto ritengono che la democrazia sia un valore cosa che Giovanni peraltro esplicitamente non dice mai mi sembra beh insomma dovrebbero tenere presente almeno alcuni controesempi no? Ad esempio il fatto che il nazismo sia andato al potere con elezioni democratiche eh e il fatto che esistesse una forte connessione tra eh nazismo e pratica scientifica così come esisteva una forte connessione fra nazismo e religione è una fortissima connessione tra nazismo e razionalismo ma che appunto ci siano settori della ricerca dove il contributo degli scienziati nazisti è stato molto importante e innegabile c'è un libro di Goga no? Pubblicato una decina forse 15 anni fa che si chiama La guerra di Hitler contro il cancro no? Ciò che noi sappiamo i nazisti furono i primi no? A sostenere gli scienziati nazisti scusate e furono i primi a sostenere eh che l'asbesto è è un è un elemento cancerogeno ad esempio ma ci sono molti altri esempi no? Che possono essere fatti no? E quindi appunto io non credo che eh scienze e democrazia abbiano questo legame così forte dal resto eh l'unione sovietica che sicuramente non era un paese democratico nel nostro senso ha sviluppato sviluppò eh progetti scientifici di grandissimo livello no? E lo stesso vale per la Cina no? E lo stesso anche nel suo piccolo ovviamente eh vale anche eh per la Repubblica Socialista Cubana che è un piccolo paese sicuramente non democratico che ha una sua certa tradizione appunto proprio nelle biotecnologie. Quindi voglio dire un'altra cosa su cui eh mi permetto amichevolmente di marcare il mio dissenso con questo bel intervento di Giovanni e che il metodo scientifico no? Quello che lui dice la eh l'applicazione rigorosa del metico scientifico del metodo scientifico è fondamentale per la credibilità della scienza no? Questo è vero inevitabile appunto nelle nelle nostre società. Questo naturalmente è verissimo no? Ma quello che è fondamentale non è questo secondo me. Quello che è fondamentale è l'intensificazione della tecnica che la scienza ci promette e ci permette. Quindi il fatto che ci sia un legame secondo me questa volta sì analitico tra scienza e volontà di potenza. passo ora ad alcune osservazioni eh sugli interventi del mio amico Maurizio Balistreri. Tutti siete amici però Maurizio ovviamente che conosco personalmente con cui c'è un'inconsuetudine amicale lo è appunto in maniera più stretta no? Allora nel capitolo della responsabilità morale del ricercatore eh tu dici no? La scienza è un bene pubblico perché è finanziata dalla società no? Allora questo è vero in generale eh però credo che sia un un'affermazione che dovrebbe essere maggiormente maggiormente specificata no? Perché voglio dire società certo sì una società fanno parte tantissime realtà eh talvolta eh talvolta in cooperazione talvolta in feroce concorrenza no? Eh allora se la frase va intesa che la società rende possibile la scienza eh allora questo mi trova d'accordo no? Eh ma credo che sarebbe utile una maggiore specificazione no? Di questo in questo genere perché ad esempio le ricerche sui vaccini eh sui recenti vaccini eh sui recenti vaccini appunto per per questa pandemia disgraziata in cui siamo in corsi eh i finanziamenti sono stati appunto erogati per lo più in grande in gran parte eh non dai governi no? Eh ma eh dalle aziende private. Ci sono viceversa eh molti casi in cui istituzioni governativi hanno reso possibile un progresso scientifico eh ma semplicemente per il fatto eh che soltanto lo Stato sembrerebbe in certe circostanze può eh permettersi di eh buttare via miliardi e miliardi di dollari e di euro eh in progetti di cui non si vede l'applicazione immediata. Questo accaduto ad esempio eh per lo sviluppo del laser. La tecnologia del laser è stata finanziata dal governo americano e dall'esercito, le agenzie dell'esercito del governo americano senza sapere bene a che cosa potesse servire finché appunto non si è individuata l'applicazione, la prima applicazione, cioè il taglio di precisione per le corazzate navali, no? Un altro caso che io cito sempre in cui appunto i militari hanno finanziato la ricerca è quello eh di Noam Chomsky, no? Forse non tutti sanno che è quello che ha considerato il suo primo capolavoro, cioè l'esercitore a sintassi che era la sua tesi di dottorato è stata finanziata dalla Marina Militaria Americana. Perché? Perché la Marina Militaria Americana si attendeva che eh quel tipo di ricerche potesse individuare un codice linguistico comune eh da cui sviluppare appunto strumenti crittografici, no? Allora ehm ti ti rivolgo poi Maurizio una domanda sul tuo capitolo le tecnologie riproduttive, clonazioni, cellule staminali, insomma argomento su cui tu probabilmente sei il maggiore esperto in Italia non tanto per chiederti qualcosa nello specifico ma quanto appunto per per interrogarti eh su una questione che a me appassiona da un po' di anni, no? Cioè che cos'è una persona, no? Tu ti chiedi l'embrione una persona, poi appunto ti metti un po' sullo sfondo, no? Non dici qual è la tua la tua posizione, no? Ma vorrei sapere appunto secondo te quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per fare di una persona una persona? Mi rendo conto che qualsiasi risposta a questa domanda è una risposta in qualche modo normativa, no? Come mi disse anni fa Monsignor Padre Brenna a un convegno organizzato dal Centro Studi Filosofici Gallarate dell'Eleusiano Magadua, no? Sì, persona un termine normativo. Ecco, la definizione che ehm che io preferisco di persona, vi spiegherò subito perché, è quella che dice, che non è poi mia e di Harry Frankfurt, eh che la persona è quell'ente in grado di formulare desideri di secondo ordine, cioè di desiderare che qualcun altro desideri, no? Perché mi è particolarmente cara questa definizione perché ehm in questa, se noi adottiamo questa definizione, molti dei nostri animali di affezione vi rientrerebbero. E appunto, a proposito degli animali di affezione ehm dico ancora qualcosa sul ehm poi mi fermo ehm sul capitolo di Maurizio sulla clonazione animali, il potenziamento dei chimeri, no? In cui appunto lui si chiede, come è tipico anche dello stile di Maurizio, no? Lo stile di scrittura di Maurizio, se riportare in vita gli animali e l'affezione sia lecito oppure no. Allora, è una questione in parte aperta, ma io non vedo, non vedo eh obiezioni di principio possibile a questa pratica. E con questa ultima osservazione concludo quanto eh ritengo avevo da segnalare eh sinteticamente, molto sinteticamente, su questo pregevole volume di cui vi ringrazio. Grazie molte a Pierpaolo Marona per questo articolato ricco intervento e che ha sollevato diverse questioni. Adesso diamo la parola agli autori nell'ordine che lui ha seguito perché possano rispondere. Dare quindi eh il microfono a Silvia Zullo in che insegna bioetica presso il corso di laurea di bio in biotecnologie e bioethics presso il corso di laurea in genomics eh nell'ambito della laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università di Bologna. Tra i suoi libri la dimensione normativa dei diritti sociali, aspetti filosofico giuridici. Prego. Grazie, grazie Emilio e grazie a Elisabetta e a Pierpaolo per questa mh ricca e stimolante eh descrizione e anche ehm considerazione mh da un punto di vista proprio etico dei nostri del nostro lavoro e della serietà e del rigore con cui lo hanno lo hanno analizzato. Grazie davvero e brevemente mh faccio una una premessa molto sintetica mh avete entrambi colto a mio avviso la per la per perfettamente l'intento ehm di stimolare e provocare più che fornire risposte di provocare in modo anche con dati aggiornati ed evidenze empiriche alla mano ehm di provocare e stimolare la domanda bioetica no? rispetto alle biotecnologie e in questo avete colto perfettamente l'architettura del volume e sottolineo che questo volume è stato pensato e eh costruito soprattutto ma non solo per eh un pubblico eh di formazione scientifica che quindi necessita come del resto voi avete colto di avere anche un sguardo un overview più che consapevole sui problemi bioetici che eh chi lavorerà andrà a lavorare con le biotecnologie necessariamente deve conoscere ciò non toglie che una riflessione filosofica ad hoc eh è presente e fa da sfondo tutto il volume come Elisabetta ha detto e quindi contribuisce ovviamente a far sì che esso si apra alla lettura da parte all'analisi da parte anche di un pubblico filosofico eh eh sia studenti che esperti ecco detto questo mh muovendo brevemente sempre da quanto sottolineava per Paolo ehm io mi mi limito soltanto a mh dire che la mia analisi bio giuridica eh da un punto di vista utilizzando un approccio gius filosofico ha voluto sottolineare innanzitutto le difficoltà infatti del diritto di aprirsi alle biotecnologie di rincorrere l'affanno del diritto nel rincorrere forme di e modelli di regolamentazione che siano al passo con lo sviluppo scientifico e tecnologico e e in questo da questo è emersa una fotografia appunto eh di un diritto in affanno costantemente eh che costantemente è costretto a rincorrere le biotecnologie ma e che necessariamente però sta comprendendo che deve anche rivedere alcune categorie giuridiche e anche alcuni modelli tradizionali e proprio riguarda questo il principio di precauzione tra di così tradizionalmente inteso va riletto e questo è un lavoro su cui io vorrei investire in termini di ricerca nei prossimi tempi proprio una rilettura mh gius filosofica del principio di precauzione io ho riportato come giustamente per Paolo ha sottolineato alcune letture recenti eh ispirate soprattutto ai lavori di Savulescu e della scuola di Savulescu che appunto propongono una una rilettura del principio critica del principio di precauzione in cui si possa eh andare oltre l'analisi rapporto bene costo beneficio rischio beneficio e riguardo a questo eh così mi allaccio un po' anche a quello che sottolineava eh così bene anche Elisabetta eh quello che il libro mh lascia intravedere che dovrebbe essere anche questo un lavoro eh la continuazione di un lavoro di ricerca che mh su cui mi piacerebbe e e credo di di continuare su questa linea è quello di sottolineare eh in in per il futuro un approccio bio giuridico che faccia leva in materia di biotecnologie sempre di più sulla considerazione del deliberativismo o democratia eh partecipativa sulle sullo diciamo sui presupposti teorici del delle delle dottrine del deliberativiste che in qualche modo possano venire in soccorso di categorie giuridiche e principi eh del biodiritto che necessitano necessariamente di un adeguamento a e e anche di una proiezione verso il futuro quindi deliberativismo inteso appunto non c'è una definizione univoca però il deliberativismo come sappiamo sostanzialmente si basa su uno sfondo teorico che si può un minimo comun denominatore che si può eh raccogliere attorno a due punti principali un concetto di democrazia in cui i processi di decisione pubblica eh debbono prevedere una fase di scambio di opinioni e informazioni il più completo e imparziale possibile e poi la discussione eh in seconda battuta deve essere una discussione il più possibile inclusiva coinvolgendo idealmente tutti i soggetti interessati alla decisione finale o perlomeno un campione rappresentativo pensiamo a eh tutte le consensus conference i bilanci partecipati town meetings e tutto quello che si sta costituendo in materia di democratizzazione delle decisioni pubbliche science and technology based perché questo è quello di cui ehm appunto io vedo anche che in relazione per esempio eh proprio al tema delle deliberazioni sulle l'editing genetico che è il tema più caldo su cui si discute molto a livello internazionale ma anche su tutte le deliberazioni che hanno a che fare eh da tempo ormai con come diceva per con gli organismi geneticamente modificati con la percezione pubblica di quello che eh significa organismo geneticamente modificato quindi io mh credo che la direzione sia quella di investire e questo mi richiama anche il concetto poi di ehm di maturazione etica eh che che a cui faceva riferimento l'Elisabetta cioè di investire sulla natura argomentativa della deliberazione sulle buone ragioni eh per mettere in per creare le giuste condizioni entro le quali anche il diritto può proseguire o continuare o migliorare il suo lavoro visto l'affanno in cui e un altro aspetto brevemente volevo sottolineare è che emerge credo da quello che avete detto avete sottolineato e dal volume proprio a riguardo a questo come la modificazione genetica eh la regolamentazione intorno a questi temi il il ruolo del rilievo dato alle decisioni pubbliche a chi decide intorno a questi temi ci porti a ragionare al di fuori dei confini nazionali in un'ottica sempre più globale che mette ancora più in crisi il diritto e il diritto internazionale e quindi questo ci fa ancora a maggior ragione ci fa rincorrere ci fa eh perseguire l'idea delle ehm eh le le basi teoriche del del deliberativismo eh in un modo che possa essere utile soprattutto in materia di decision making e di un decision making che riguarda sempre di più l'ambiente e quindi che esce fuori dai confini nazionali perché tocca tutti in un terreno molto molto ampio eh pensiamo appunto a come eh oggi in materia di gene editing di OGM eh sia stato ripreso ci si sia ehm ci si si chiamano in causa non solo per esempio participation rights ma anche proprio eh schemi che consentano di passare dal alla governance in senso globale e che richiamano eh a partire dal richiamo a quel famoso meeting eh che è proprio una consensus conference che fu la prima no? La conferenza di Asilomar e rispetto alla quale si è messo in evidenza e si vuole eh tentare di evitare gli errori già ripetuti in quella conferenza globale che fu il primo summit globale di scienziati a confronto che eh su su questi temi che mh che però avevano escluso eh la 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 partecipazione del cittadino laico del cittadino e e che invece forse andrebbe ora eh coinvolto nelle forme migliori che possiamo sperare di eh individuare quindi l'iniziativa di Asilomar negli anni settanta ebbe il pregio di dimostrare sicuramente il senso di responsabilità degli scienziati coinvolti eh ma fu duramente criticata proprio per aver escluso dal dibattito esponenti eh laici della società civile e questo appunto ci potrebbe in qualche modo venire incontro nel rivedere quello che eh ruolo appunto del diritto in questo nel suo rincorrere le biotecnologie e in quello che abbiamo detto sino ad ora eh ultimo aspetto eh brevemente e chiudo è quello dell'obiezione di coscienza questo naturalmente è un grande tema mh eh ho prestato molto che Elisabetta l'abbia eh sottolineato perché qui il diritto ancora una volta il diritto anche in una versione gius filosofica a maggior ragione eh si trova in difficoltà tuttora a individuare il bilanciamento no dei diritti in gioco nell'obiezione di coscienza il diritto alla salute da un lato il diritto all'obiezione eh di alla alla libertà di coscienza dall'altro è chiaro che in una situazione di emergenza come quella attuale il diritto alla salute deve prevalere ma non risolve il problema di come bilanciare eh questi questi diritti e libertà in gioco ci sono varie naturalmente varie varie proposte di risoluzione una via sembrerebbe garantire eh la più semplice quella che sembrerebbe garantire per ogni obiettore almeno un obiettore ma anche qui non andiamo a risolvere eh naturalmente il problema teorico o comunque di fondo bioetico teorico di fondo che eh riguarda proprio il fondamenta di una libertà di coscienza in rapporto con la deontologia professionale così particolare come quella mia però mi taccio qui perché naturalmente non voglio eh andare eh urbare altro tempo soprattutto ai colleghi quindi eh mi fermo qua grazie grazie mille Silvia per questo bel intervento ricordo ai relatori che abbiamo circa una ventina di minuti e quindi di auto eh regolamentare i propri interventi tocca ora a Matteo Galletti che insegna bioetica ed etica applicata all'Università di Firenze ed è membro del comitato etico per la sperimentazione clinica della religione della regione toscana tra i suoi libri eh reciprocamente responsabili la responsabilità morale tra naturalismo e normativismo prego bene grazie eh grazie veramente a Elisabetta per luci che hanno come dire eh sollevato dei degli interrogativi e dei eh e dei eh dei punti eh talmente ricchi che per me è sistematicamente impossibile riuscire a rispondere su tutto quello che hanno detto eh pretendendo anche di dire qualcosa di sensato e quindi io mi limiterò davvero alcune battute alcuni commenti eh su sui punti evidenziati da per Paolo e Elisabetta eh partendo proprio eh da Elisabetta che secondo me ha accolto un punto fondamentale a mio giudizio non soltanto del nostro libro ma proprio della eh di quello che sta accadendo oramai eh nel mondo occidentale per lo meno eh da eh cinquanta sessant'anni a questa parte eh cioè che si sta ridefinendo profondamente eh quelli che sono i confini della responsabilità cioè la grande trasformazione a mio parere che si sta ancora verificando e che passa attraverso tutto quello che Elisabetta la numera ha citato cioè lo spostamento progressivo del confine tra caso e scelta e anche eh come dire che i riassetti eh eh delle decisioni pubbliche eh hanno come effetto quello di eh ridefinire i contorni delle responsabilità personali e connettive e questo eh forse è il grande tema non che come dire prima questo non avvenisse eh eh per molto tempo si è enfatizzato molto la novità del dei problemi di cui la bioetica si occupa per un verso è vero per l'altro eh io tenderei a non esagerare troppo nel senso che ci sono forse dei come dire delle eh dei problemi che hanno attraversato tutta la storia umana anche la definizione del caso del confine tra caso e scelta ma lo stesso Duorchi ricordava come in realtà tutta la storia umana è permeata dal tentativo di spostare questo confine quindi non è un'esclusiva degli ultimi eh decenni negli ultimi decenni c'è stata un'accelerazione notevole questo questo senza dubbio eh e e da questo punto di vista eh questa accelerazione investe completamente ehm quello che è eh quello che è il il tema della responsabilità su un punto io credo che eh dovremmo fare tutti uno sforzo in più tutti noi che ci occupiamo di bioetica eh Elisabetta l'ha detto benissimo cioè quello di capire come si eh ridisegnano eh gli assetti eh decisionali questo oramai è diventato un problema secondo me estremamente urgente eh sono d'accordo con Pierpaolo quando ha detto che eh come dire eh l'idea di un'autoregolamentazione della scienza eh non solo non funziona più ma forse non ha mai funzionato chiaramente io credo che da questo punto di vista siamo siamo stati utilizzo un noi molto generico eh non intendo né noi che siamo qui oggi né noi che facciamo bioetica in generale c'è stata forse forse un bias di ancoraggio cioè eh che che ci ha un po' tenuto ostaggio eh cioè noi abbiamo ancora in mente molto spesso quell'esempio della conferenza di Asinoma di cui eh la la scienza si autoregolamentò mettendo al bando sostanzialmente le ricerche eh in modo anche parziale le ricerche sul DNA ricombinante e eh come dire forse si è pensato che quel modello potesse funzionare anche eh in altri tempi e per altri problemi e forse questo questo è vero non funziona non riesce a funzionare forse non ha mai funzionato e credo a questo da questo punto di vista l'apporto di una bioetica deliberativa sia necessario e utile eh comporta però un grandissimo sforzo io penso al nostro paese in cui molto spesso si denuncia appunto la eh l'ignoranza diffusa eh l'incapacità anche molte volte di discutere eh pubblicamente di problemi importanti ma noi abbiamo un problema anche che come dire di sensibilità istituzionale noi abbiamo eh istituzioni che sono davvero poco sensibili a pensare a dei processi partecipativi come quelli previsti dalla bioetica deliberativa quindi credo che eh se questo passo che io ritengo assolutamente necessario debba essere fatto questo comporti veramente un surplus di riflessione e di azione anche politica perché davvero significa introdurre un novum ehm sostanziale eh se pensiamo a come oggi la bioetica pubblicamente viene concepita in Italia forse abbiamo il modello di comitato nazionale cioè c'è un comitato nazionale per la bioetica che ogni tanto sforna ha dei pareri che certe volte sono anche intellettualmente molto stimolante altre volte hanno giudizio molto confusionari eh e lì si esaurisce l'impegno delle istituzioni eh nella riflessione nella discussione bioetica poi ogni tanto si fa qualche legge eh qualche volta viene bene eh come l'anno duecentodiciannove sulle datte il consenso informato altre volte eh è un obbrobio eh giuridico e politico come quello quella legge quaranta eh ma per ragioni culturali cioè non non semplicemente non sono eh passi accidentali ci sono delle ragioni strutturali che rendono così eh complicato a livello pubblico ragionare di eh cioè pensare di organizzare una serie a discussione pubblica su questo livello quindi l'impegno ecco eh tanto teorico quanto pratico da questo punto di vista eh perlomeno per il nostro paese è estremamente eh estremamente ingente. Eh per quanto riguarda le questioni sollevate da Pierpaolo eh tento di dire qualcosa perché ha toccato dei punti anche estremamente interessanti eh sull'equilibrio riflessivo eh mi permetto in modo maleducato di rispondere con una domanda ma ma siamo sicuri che quando facciamo eh un equilibrio riflessivo e tentiamo di eh come dire salvare i principi eh a parte il fatto appunto che potremmo aggiustare qualsiasi principio ma siamo proprio sicuri che le nostre intuizioni morali sui casi debbano costituire in qualche modo il metro attraverso cui aggiustare i principi. Cioè questa è una cosa che Peter Singer ha sollevato tempo fa ma chi ci dice che le nostre intuizioni morali devono essere così eh così tenute di conto diciamo così. Quindi c'è un ulteriore problema secondo me. Non solo che si può aggiustare qualsiasi principio ma come dire forse certe volte fare a meno delle intuizioni morali salvaguardare qualche principio sarebbe eh più eh più ragionevole. Eh sull'autonomia sono d'accordo con lui eh però faccio notare una cosa che quando eh perlomeno nella discussione bioetica eh si propone l'ideale di autonomia come eh giustificazione del fatto che devono essere prese note al paziente tutte le informazioni pertinenti sulla sua costituzione genetica e secondo alcuni che ci dovrebbe essere un obbligo individuale di conoscerle eh si pensa che come dire quell'ideale di vita eh che per Paolo citava cioè un ideale ispirato alla vita rischiosa sia da escludere perché irrazionale. Cioè non c'è soltanto una fedeltà all'autonomia e il sesso formale. C'è anche l'idea che le scelte veramente autonome sono quelle scelte razionali e che di fondo sia irrazionale decidere di privarsi di informazioni che potrebbero in qualche modo avere eh uno a un un'utilità per la cura della propria salute. Quindi la risposta faccio l'avvocato del diavolo la risposta che darebbero è che no eh la la scelta di una vita rischiosa o eh tu hai citato Frankfurt la vita eh una vita passata questo è un riferimento per i filosofi di stretta osservanza con eh una vita passata secondo eh il modo di vivere dei wanton come diceva Frankfurt cioè di quelli che vivono soltanto i desideri di primo ordine e non sono vite accettabili perché sono scelte razionali quelle di perseverare in quelle vite quando si possono invece eh scegliere eh vite più eh più accorte più più prudenti dal punto di vista della cura della propria salute o più ricche dal punto di vista delle esperienze che si possono che si possono eh avere. E l'ultimo punto eh anche qui sono d'accordo con lui eh con una specificazione. Forse noi dobbiamo eh come dire eh quando parliamo appunto di etiche dell'ambiente e di etiche degli animali non umani distingue da una posizione antropocentrica che è una posizione che ha un suo peso normativo eh perché implica una gerarchia morale eh tra tra l'entità e invece una posizione eh antropoprospettica cioè che riconosce che tutto quello che possiamo dire sull'ambiente alla fine è qualcosa che proviene dalla nostra prospettiva perché di fatto siamo per fino ad oggi l'unica specie che è capace di riflessività e quindi di eh avanzare delle considerazioni morali raffinate eh di questo tipo e questo in qualche modo ci costringe a guardare il problema dalla nostra prospettiva eh eh questo non significa però che guardare la nostra prospettiva debba coincidere con ehm l'accettazione di una di una prospettiva antropocentrica o antropocentrata da un punto di vista eh normativo. Io da questo punto di vista se proprio debbo esprimere una mia personale convinzione che qui non posso argomentare è che forse una prospettiva sensiocentrica che non è quindi eh di ecologia profonda ma ancora diciamo sì di un'ecologia di superficie però molto eh un po' più profonda diciamo così delle posizioni debolmente antropocentriche sia la posizione più accettabile cioè quella che si pone il problema eh del valore della natura non tanto come valore intrinseco ma come valore dipendente da tutta una serie di bisogni e interessi di tutti gli esseri senzieri che non sono quindi sono gli esseri umani ma sono anche buona parte degli animali non umani che popolano eh il pianeta. Eh e questa secondo me è la posizione più ragionevole ecco rispetto a quelle che il mercato ci offre. Io mi scuso di questa mia carrellata molto poco accurata eh perché eh le le sollecitazioni avrebbero meritato veramente molto più spazio e molta più attenzione però insomma queste sono sempre tappe di un dialogo che spero possa continuare anche al di là eh della dell'occasione della presentazione del libro e grazie ancora a Elisabetta Pierpaolo per la loro attenzione eh e per la loro anche come dire capacità di enucleare dei temi importanti del nostro del nostro. Grazie molto Matteo Galletti abbiamo ancora qualche minuto a disposizione adesso la parola a Giovanni Capranico che è professore ordinario di biologia molecolare presso il Dipartimento di farmacia e biotecnologia all'Università di Bologna. Prego. Eh grazie. Io adesso non voglio rubare molto tempo e soprattutto voglio dare la parola subito a Maurizio. Certo le al di là dei ringraziamenti che evito per brevetà. Certo che le sollecitazioni venute soprattutto da Pierpaolo sono importanti per quanto riguarda la scienza. Quindi permettetemi qualche battuta. Io sono l'unico scienziato ma insomma io non so se la democrazia è un valore o uno strumento però non vorrei stare in un paese di dittatoriale e sicuramente riaffermo che la scienza può vivere e può prosperare solo in un ambiente democratico. Io credo che ci sia forse eh non ne sono sicuro ma forse c'è una certa confusione tra scienza tecnica e pseudoscienza. Io ricordo che in Unione Sovietica si sviluppò Lisenko le teorie di Lisenko che rinnegavano eh Darwin rinnegavano Mendel e poi nel 64 furono abbandonati. Il nazismo al di là di una piccola eh piccolo risultato sull'asbesto ha sostenuto l'eugenetica e l'agricoltura biodinamica che non hanno basi scientifiche. Non si può non si possono portare questi esempi che sono pseudoscienza come ehm prova che le dittature favoriscono o comunque permettono il prosperare della scienza. Tutt'altro. Io credo che in questo momento la scienza è repressa. Alcuni scienziati non sono liberi e in molti paesi un certo numero di paesi e tanto per citare la Cina. Io credo che la Cina ho l'impressione che lasci la libertà di scienza alla scienza di base ma controlli e intervenga fortemente nel intervenga fortemente nel controllare la tecnica. E questo è il punto scienza e tecnica non sono la stessa cosa anche se sono fortemente legate. La scienza di base questo periodo stiamo parlando di piano Amaldi no? Che non è stato eh pienamente ehm incluso nel nel piano di resilienza che Draghi ha ha fatto. Ecco questo è una grave lacuna perché la scienza di base è quell'attività scientifica a cui alla domanda a che cosa serve non sai rispondere. E l'unica domanda l'unica risposta data è richiedimelo tra duecento anni. Questo qualcun altro ben prima di me rispose così. La scienza di base è una cosa necessaria per il puro gusto necessità dico io di sapere perché c'è un diritto alla scienza che nel mio capitolo ha toccato ma che dovrebbe essere espanso c'è un diritto alla scienza che è semplicemente il diritto di sapere perché tutti noi abbiamo diritto di sapere e questo è deve essere deve essere libero. Adesso anch'io ho fatto un po' di confusione nella mia risposta ma mi taccio qui perché altrimenti Maurizio non può parlare. Grazie. Grazie mille a Giovanni Capranico e do la parola a Maurizio Ballistreri che insegna bioethics e etica applicata presso il corso di laurea in filosofia dell'Università di Torino. Tra i suoi libri più recenti Sex Robot, L'amore ai tempi delle macchine. Prego. Grazie, grazie alla biblioteca delle Olgiate, grazie a chi ha organizzato questo incontro e grazie soprattutto a Elisabetta, a Pier e a Emilio che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella presentazione. A me è piaciuta tanto perché sono venute tanti stimoli, tante considerazioni che mi hanno fatto pensare. Parto dalla prima. Io condivido l'idea di Pier che la tecnica sia un elemento imprescindibile dell'umano, degli esseri umani, però mi ritrovo perfettamente nella ricostruzione che dava Elisabetta. Mi è piaciuto, insomma, questa idea della bioetica diffusa perché sono d'accordo con lei che ci troviamo in una situazione storica in cui le possibilità di scelta aumentano sempre più quello che prima era biologico naturale e è diventato oggi oggetto di scelta. Possiamo scegliere all'inizio della vita, possiamo scegliere durante la vita, non solo, insomma, nelle situazioni che riguardano la malattia e possiamo scegliere alla fine della vita. Insomma, aumenta la possibilità di scelta e qui sta, secondo me, anche un altro cambiamento che forse è stato già messo in luce, anzi sicuramente Matteo anche l'ha messo in luce, ma anche Elisabetta ne aveva parlato. Insomma, aumenta anche la questione relativa alla responsabilità e qui, secondo me, sta una grande novità rispetto alla bioetica della prima ondata. La riflessione bioetica degli anni 70, degli anni 80 e direi anche degli anni 90 era una riflessione che vedeva contrapposti due fronti, quelli a favore delle nuove tecnologie e quelli che invece opponevano resistenza, conservatori che rifiutavano, insomma, l'introduzione delle tecnologie. Oggi, secondo me, questa contrapposizione è totalmente superata, il campo si è aperto e con esso si è aperta la scelta e la possibilità di riflettere sull'uso più responsabile delle risorse che abbiamo oggi a disposizione. Quindi è cambiata non solo la situazione fattuale, ma anche la riflessione filosofica, morale. Insomma, stiamo ragionando oggi, quando parliamo di bioetica, in una prospettiva completamente diversa rispetto a quella che c'era vent'anni fa. Chiudo, perché non c'è tanto tempo, facendo una considerazione anche sull'intervento di Pierre, che secondo me testimonia di questo cambiamento di prospettiva. La domanda appunto che cos'è, chi è persona o la questione relativa alla clonazione animale, ci dicono che oggi è legittimo domandarsi chi è persona. Oggi ragioniamo anche appunto sull'intelligenza artificiale, sui robot, ci chiediamo se anche loro possono essere persone. Quindi anche qui siamo oltre quell'idea che soltanto l'essere umano poteva essere persona. E oggi è legittimo porsi una questione di tipo più generale, che riguarda non solo gli animali, ma che riguarda anche altre entità, e chiedersi appunto, possono essere persone, quali ingredienti, quali caratteristiche le altre entità devono avere per poter essere persone. Vedo che l'orologio è arrivato alle 18.49 e qualche secondo. Grazie Maurizio, siamo arrivati a desaurire il nostro tempo a disposizione. Abbiamo parlato di biotecnologie e modificazioni genetiche, scienza etica e diritto, ne abbiamo parlato con gli autori, che ringrazio, Maurizio Balistreri, Giovanni Capranico, Matteo Galletti e Silvia Zullo, e ne abbiamo parlato insieme a Elisabetta Lallumera e a Pierpaolo Marrone. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Speriamo di vederci veramente dal vivo, insomma, e ringraziamo la biblioteca che poi ci offre la scena. Per un'altra puntata. Ci diamo appuntamento a un'altra... Grazie a Betta e grazie a Piero e grazie a Emilio. Scusate... Grazie mille a voi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Sembra che...